Oggi mattinata di sole splendente sul territorio ebleo, poi qualche annuvolamento che prepara la pioggia prevista in serata. Da sabato sera a ieri sera sono state invece 24 ore di bufera, ampiamente previste e annunciate. Ma forse ha sorpreso la violenza dei venti di Burrasca che hanno soffiato anche oltre i 100 km l'ora e la violenza delle onde marine che a Santa Maria della Scala, nella Cese, hanno travolto e inghiottito tre giovani sul molo. Ieri a Ragusa, in quasi tutti i centri della provincia, la protezione civile e i vigili del fuoco hanno ricevuto centinaia di chiamate. In diverse strade, alberi letteralmente sradicati dalla furia del vento si sono abbattuti sulla carreggiata ostruendo la circolazione. La stessa cosa è successa sui binari della ferrovia che per diverse ore non sono stati agibili, impedendo il normale traffico. Sempre a Ragusa, in via Buonarroti, è crollato il tetto di una casa, ma questa scena non è stata l'unica. Decina gli episodi simili in varie zone del territorio ebleo. A Pozzalla, il crollo di una parte del tetto della stazione ferroviaria, ha ferito un ragazzo, per fortuna in modo non grave. Pezzi di cornicione, di intonaco, di tegole e di frammenti di varie strutture sono caduti in diverse località. A Modica risulta danneggiato il Palazzo della Cultura, in Corso Umberto. Sempre a Modica crollate due case, mentre è andato distrutto l'orologio della chiesa San Giovanni nella parte alta della città. Un anziano è rimasto ferito, colpito dalla finestra di velta dal vento nella sua abitazione. La litoranea Pozzallo-Sampieri è stata investita in una bufera di vento più forte che altrove. Ne ha fatto le spese anche il tetto di una stazione di rifornimento di carburanti. Questo scenario ha indotto ieri diversi sindaci, per esempio a Ragusa, Modica e Scicli, a ordinare la chiusura delle scuole oggi. Una scelta di prudenza comprensibile ieri, un po' meno oggi, mattinata di sole, ampiamente prevista peraltro. Uno scenario molto critico poi è quello dei danni in agricoltura. La tempesta di vento ha distrutto migliaia di metri quadrati di copertura delle serre. In qualche caso diverto anche le strutture metalliche. Le temperature troppo rigide, le nevicate di venerdì e il gelo della notte hanno inferto un duro colpo anche alle colture in campo aperto. In proposito è in corso la stima dei danni. Oggi sopra il luogo dell'assessore regionale all'agricoltura è di Bandiera, Pachino, Rosolini e Ispica.